Sono in tutto 27 i positivi al covid riscontrati nelle ultime ore nel comune di Terra Nuova Bracciolini e il sindaco Sergio Chienni a fare chiarezza. Si tratta di casi che riguardano soprattutto bambini e ragazzi sotto i 12 anni. Abbiamo in quarantena 5 classi, non ha senso per questo, dice Chienni, pensare alla chiusura delle scuole. I dirigenti scolastici hanno reagito rapidamente e messo in didattica a distanza le classi interessate. Dobbiamo comunque proseguire con le dovute attenzioni. Chi non si è vaccinato, conclude Chienni, lo faccia perché preserva dalle conseguenze gravi del virus. E proprio per la fascia di età che va dai 5 agli 11 anni, tra poche ore, alle 14 del 10 dicembre, si apriranno le prenotazioni nel portale della Regione Toscana. Si tratta di una platea di circa 215 mila bambini. La campagna di vaccinazione sarà negli hub e prevederà l'impiego dei pediatri e dei medici di famiglia. Il ciclo vaccinale completo prevederà la somministrazione di due dosi Pfizer a distanza di 21 giorni. Per gli adulti, invece, dai 18 anni in su, torna il camper vaccinale nella zona del Prato, ad Arezzo a ridosso delle iniziative della Città del Natale. Sabato 11 dicembre, dalle 14.30 alle 19.30 e domenica 12 dicembre, dalle 8.30 alle 13.30, nel camper della Misericordia sarà possibile fare la prima o la terza dose presentando il Green Pass dove è indicata la data della seconda inoculazione. Sarà una vaccinazione ad accesso diretto senza prenotazione.